Con il ritorno in arancione, ecco cosa cambia in Emilia-Romagna a partire da lunedì. Bonaccini, premiati gli sforzi dell'ultimo mese, adesso basta passi indietro. Coronavirus, i contagi tornano sotto quota 100 nel riminese, continua a diminuire la pressione sugli ospedali, ma non si arrestano le vittime. Fiamma all'esterno di un hotel di Rimini, l'incendio divampato nella notte è partito dall'insegna luminosa. Calcio, smaltita la delusione per la sconfitta con la San Maurese, i biancorossi cercano riscatto in casa del fanalino di coda Corticella. Buonasera e bentrovati con l'edizione serale di Icaro Tg. Da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione, merito di un RT scesa 0,81 e dell'incidenza settimanale diminuita sotto la soglia limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti. La regione era in rosso dal 15 marzo e la provincia di Rimini dalla settimana precedente. Vediamo ora cosa potrà ripartire. Dopo un mese in rosso, da lunedì l'intera regione torna arancione. Potranno quindi riaprire tutti i negozi e le attività commerciali. Piena operatività anche per i mercati ambulanti, limitati ai soli banchi alimentari invece in zona rossa. Rialzano la serranda anche parrucchieri, barbieri ed estetiste e molti hanno già lunghe prenotazioni da smaltire. Confermata la chiusura nei fine settimana di centri e gallerie commerciali, con le solite eccezioni per negozi di alimentari, farmacie, edicole e tabacchi. Per spostarsi all'interno del proprio comune non sarà più necessaria l'autocertificazione e torna la possibilità di andare a far visita una sola volta al giorno ad amici o parenti, sempre nel proprio comune e nel limite di due persone più eventualmente minore di 14 anni. Per chi vive in un comune con meno di 5.000 abitanti, le visite sono consentite entro i 30 chilometri ed eventualmente anche in un'altra regione o provincia. Capitolo scuola, torna la didattica in presenza per tutti gli studenti di seconda e terza media, mentre per le superiori la didattica in presenza sarà al 50%. Già in presenza da questa settimana invece gli studenti dalla prima media in giù. Pronto il sistema del trasporto pubblico. Start ripristinerà infatti le cosiddette corse bis covid che erano state provvisoriamente sospese in zona rossa. Restano chiusi al pubblico bar e ristoranti, per i quali è possibile solo l'asporto, fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per enoteche e ristoranti. Nessun limite invece per la consegna a domicilio. Il ritorno in zona arancione premia i sacrifici di tutti gli Emiliano Romagnoli nell'ultimo mese, commentano il presidente della regione Bonaccini e l'assessore alla salute Donini, spiegando che l'obiettivo ora è quello di non dover fare nuovi passi indietro più avanti, ma anzi creare le condizioni per ulteriori riaperture. Per farlo, concludono, è fondamentale continuare a rispettare le norme in vigore e accelerare sulle vaccinazioni. Coronavirus, un lieve aumento di contagi in regione, ma una sensibile contrazione nel riminese. Calano ancora i ricoveri, ma si contano altre 36 vittime, 5 delle quali in provincia di Rimini, il servizio. Tornano a scendere sotto quota 100 i nuovi positivi nel riminese. Per l'esattetta sono 96, di cui 47 con sintomi. Ieri erano stati 157. Continuano a buon ritmo le guarigioni, oggi 158, e calano ancora i ricoveri in terapia intensiva a Rimini. Sono 27, uno e meno di ieri. Dopo le 4 vittime di ieri, oggi ne sono state comunicate altre 5. Si tratta di 3 donne di Rimini di 84, 92 e 93 anni, di una 81enne di Sant'Arcangelo e di un uomo di 77 anni di Rimini. In Emilia-Romagna i positivi sono 1525 in aumento rispetto a ieri, erano 1.488, ma sono di più i tamponi processati, quasi 29.000, tanto che il tasso di positività è in calo, oggi al 5,3%. La situazione contagi nelle province vede in testa Bologna, con 346 casi, seguita da Modena, con 279, e Parma, 193. Diminuisce la pressione sugli ospedali. Nelle terapie intensive sono ricoverati 334 malati gravissimi, 9 in meno di ieri. E nei reparti di area medica ci sono 2.805 pazienti malati di Covid, 111 in meno di ieri. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.270, mentre quelle che ancora lottano contro il virus sono complessivamente 67.000, 778 in meno del giorno precedente. Infine le vittime, oggi altre 33 dopo le 36 di ieri. In totale sono 12.340 gli emiliano-romagnoli che finora hanno perso la vita a causa del Covid. Il sindacato mio torna in piazza a Rimini per manifestare le difficoltà del mondo del lavoro e chiedere risposte nel mirino le istituzioni nazionali, ma anche locali, per come hanno gestito l'emergenza. Vediamo. Per il secondo sabato consecutivo Mio è sceso in piazza Tremartire a Rimini per protestare contro la negazione del diritto costituzionale del lavoro. Una manifestazione partecipata che ha radunato qualche centinaio di persone. Oltre al presidente di Mio Emilia Romagna, Paesani, sono intervenuti il presidente di Asso Intrattenimento Zanchi, il filosofo Fusaro, in collegamento il direttore di Libero Senaldi. A terra, come segnaposto per il distanziamento, una copia delle licenze delle varie attività. Nel mirino dei relatori, le istituzioni, sia locali che nazionali, accusate di non essere in grado di gestire l'emergenza, definiscono il mondo della piccola e media impresa come quello della protesta, ha detto Paesani dal palco, ma noi per 15 mesi abbiamo fatto proposte e invece delle risposte, ha aggiunto, sono arrivate solo sterili di dichiarazione di solidarietà. A smuovere la politica non sarebbe servita poi neppure la manifestazione della scorsa settimana. Non ci sono arrivate risposte dalla politica se non il maldestro tentativo di dividersi promettendo ad alcuni di quelli che si sono aggregati ore d'aria come si fa con i carcerati o al più temporanee riaperture al lavoro. Non è questa, secondo noi, la soluzione. Abbiamo radunato un pool di tributaristi, economisti, costituzionalisti e avvocati e a questi abbiamo chiesto, in base alla pandemia che stiamo vivendo, in base alla situazione emergenziale che vede le nostre aziende o chiuse da 15 mesi o parzialmente aperte, quanto diritto c'era da parte dello Stato di rivendicare tasse, quanto diritto c'era da parte dei comuni di rivendicare tributi. Dallo studio fatto ci è stato illustrato chiaramente cosa dobbiamo pagare, ad esempio sulla parte contributiva il 9,17% che è la quota dipendente, perché diversamente sarebbe una proporzione in debita, ma c'è stato fatto un elenco lunghissimo di cose che non sono da pagare. Parole dure dai relatori anche nei confronti dell'informazione e dei giornalisti, in piazza ad assistere anche vari rappresentanti del centrodestra riminese. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti nella notte poco prima delle tre con un mezzo e cinque unità per domare un incendio all'hotel Panama Majestic, albergo stagionale di Viale Regina Elena. Le fiamme si sono sviluppate da un'insegna luminosa esterna e si sono rapidamente propagate in materiali combustibili lì vicino. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse all'interno del Tre Stelle. Sul posto anche personale della Polizia di Stato è stato infatti un equipaggio delle volanti della Questura impegnato nell'attività di presidio del territorio a notare il principio d'incendio e a dare l'allarme. Nessuna persona è rimasta coinvolta, essendo l'albergo chiuso in questo periodo dell'anno. Cambiamo ora decisamente argomento. Il servizio di trasporto dializzati della provincia di Rimini è stato nuovamente assegnato alla cooperativa sociale La Romagnola. Un servizio che non si è mai interrotto neppure durante la pandemia, anche se crescono le difficoltà. Vediamo. Sarà ancora la cooperativa La Romagnola ad effettuare il servizio di trasporto per i dializzati della provincia di Rimini per 2021-2022. Tra il distretto nord di Rimini e quello sud di Riccione sono un centinario in provincia gli utenti fragili che vengono trasportati alle sedute di dialisi tre volte alla settimana. La cooperativa, nata nel 1975 e dal 1994 consolidata nel servizio di persone con difficoltà motorie, dà lavoro a 60 persone, delle quali 30 con disabilità. La nuova modalità di assegnazione del servizio, attraverso la partecipazione ad un progetto di coprogettazione con la pubblica amministrazione, risulta però penalizzante per la cooperativa, provata anche dalla pandemia. A prevalere però è la volontà di aiutare gli utenti. A fronte di un'emergenza straordinaria, quale è quella del Covid, il Consiglio di amministrazione ha deciso di aiutare la popolazione, in questo caso la popolazione dei dializzati, nella maniera migliore possibile continuando a garantire lo stesso servizio, anche se purtroppo le risorse sono venute a mancare e sistematicamente questo qui è un servizio che chiude in perdita. Noi continuiamo a garantirlo e speriamo di poterlo fare anche per il futuro. Certo che non sappiamo quanto potremo andare avanti, perché naturalmente alla fine del mese poi noi dobbiamo pagare gli stipendi, dobbiamo pagare il gasolio, dobbiamo pagare le assicurazioni, dobbiamo pagare tutto quello che serve. Poi dobbiamo fare le sanificazioni, che sono anche quelli un ulteriore costo, però tutti i servizi dovuti a questa utenza fragile. Apriamo ora la pagina dello sport e partiamo dal calcio. Smaltita la delusione post-derby con la San Maurese che ha stoppato a 4 la striscia positiva dei Biancorossi, Scotti e compagni sono attesi domani dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Corticella. Anche i bolognesi sono scesi in campo mercoledì, aggiudicandosi per 4-2 il recupero con il Mezzolara. Albiavati sarà assente per squalifica Nigretti, oltre all'acciaccato Gomì. Calcio d'inizio alle ore 15 con aggiornamenti in tempo reale sul sito newsrimini.it. Mister Mastro Nicola torna nello stadio dove centrò la promozione in Serie D alla guida del primo Rimini di Giorgio Grassi, stagione 2016-2017. Sentiamo le sue parole alla vigilia del match. Loro hanno fatto questa grande vittoria in rimonta e ovviamente ci credono, devono crederci. In questo momento probabilmente il morale è anche di buon livello. Però poi le partite di calcio sono fatte anche di altri fattori e si deve ragionare per affrontare una partita. Bisogna essere lucidi e freddi. Ho chiesto alla mia squadra proprio questa, di essere lucida, fredda, ma allo stesso tempo di avere un cuore enorme. La classifica dice questo, però se noi andiamo con la puzza sotto il naso, veniamo via con un pugno di mosche. Credo che questo non deve assolutamente succedere per nulla al mondo. La squadra il giovedì ovviamente era demoralizzata, era triste. Fa parte del gioco, sei un po' triste e un po' magari vai alla ricerca di alibi oppure vai alla ricerca di un qualcosa che non c'è. In realtà ognuno di noi deve sapere e sa quello che non ha funzionato. Devo cambiare Nigretti, eventualmente rispetto alla partita di domenica, però poi ancora ci sono, secondo me, alcune situazioni che non cambierò. Abbiamo conquistato il campionato di Serie D proprio in quel campo, no? Però sono ricordi e a me non piace vivere di ricordi, nel senso che mi piace tenerli per me perché sono state esperienze belle e formative, però non mi piace metterle sul banco. Sono cose belle che si ricordano sempre con piacere, ma non mi piace ricordarle con gli altri, diciamo così. In trasferta anche Riviera Banca, Basket, Rimini, che alle 18 giocherà al Palatenda, Tana della Solbat Golfo Piombino, per la quarta giornata del Girone A di Serie B. La partita sarà trasmessa su Icaro TV Canale 91 a partire dalle 22, domani sera ovviamente. E in diretta dalle 15, sempre su Icaro TV, potrete seguire la partita tra NTS Riviera Basket e l'Aumas Gioco Parma, quinta giornata del campionato nazionale di Serie B di Basket in carrozzina. E torna questa sera l'appuntamento con Ticva, gli intrecci della speranza. Vediamo un'anticipazione della puntata in onda alle 20 e 35. Io posso dire che venerdì sera, quando sono stato in mano a questa cosa, mi ha preso qualcosa dentro, qualcosa che non riuscivo a esternare. E avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a farlo vedere, questo messaggio, perché se in realtà va dentro di me e basta, non aveva nessun senso. Reggendo a stento l'emozione, il signor Luigi Perugini ha raccontato così il ritrovamento delle colombe create da ragazzi della Maiche e volate da Pistoia in Toscana sino in Umbria a Piosina, non lontano da Città di Castello. Il nostro resta un segno, resta un segno forte di vicinanza. Questo entra in quella logica che Papa Francesco e il nostro arcifesco stanno dicendo di essere speranza, perché in questo momento quello che sta mancando è proprio la speranza. Papa Francesco ha detto proprio in il suo messaggio che nella prima fase, il primo lockdown, eravamo sconvolti. Adesso siamo provati. Io con queste mani ho venduto solo morte, cioè droga, invece ora sto lavorando. Sono Savino Manzi, ho 43 anni e sto scondando la mia pena presso la masseria Senza Sbarre, dal progetto a mano libera. Il progetto Senza Sbarre mira alla misura alternativa al carcere di comunità. Quindi significa che noi stiamo cercando di intercettare giovani che stanno in carcere o che stanno per entrarci di farli sognare attraverso il lavoro e l'inserimento nella società con una mentalità rinnovata. È mattina e nella chiesa delle vigne si ritrovano alcune vittime e le persone che se ne prendono cura, i volontari, il parroco e Aniseth, suora missionaria di Nostra Signora degli Apostoli. Siamo nel cuore intricato di Genova, dove il dramma della tratta e della prostituzione è conosciuto e visibile anche di giorno. Suora Aniseth e i suoi collaboratori incontrano queste ragazze, ci parlano, le conoscono e le invitano a pregare. Succede tutte le settimane, il giovedì mattina. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il TG. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata. Grazie a tutti.